Febo si parla dell'ospedale Maltauro, della diffida della regione alla ASL, lei oggi scende in campo e si rivolge proprio alla ASL di Atina. Ma sì perché dopo oltre mille giorni, abbiamo perso oltre tre anni nel rincorrere un capriccio, una telenovela ad Alfonsiana per qualcosa che non si può fare, non ha i piedi per camminare, non ci sono le risorse economiche, ci sono tutta una serie di problematicità e peraltro il Presidente cambia ogni volta posizione, aveva chiesto la ipurazione dell'ingegnere Manci, cioè il RUP, addirittura il RUP del procedimento, poi aveva detto che avrebbe avvocato a sé la procedura, cosa che non può fare e adesso invece fa la diffida alla ASL a eseguire i suoi ordini. Credo che veramente siamo ormai in un regime peggio di quello di Erdogan che non è tollerabile, soprattutto non è tollerabile per la sanità abruzzese, per la sanità teatina, qui si corre il rischio che fra poco chiuderanno i reparti, verranno trasferiti e corressa purtroppo anche la università. Questo è il vero obiettivo che ha in mente il Presidente D'Alfonso che ancora riesce a capire che non è più il Sindaco di Pescara ma il Presidente della regione Abruzzo e soprattutto tutto ciò sempre a danno della città di Chiedi. Voi siete decisi ad andare avanti? Assolutamente sì, lo abbiamo detto, Forza Italia a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale ha una posizione chiara e sarà una posizione che manterrà fino alla fine, peraltro anche ricorrendo alla carta bollata.